Siamo con Matteo Bonacina, giornalista blu-celeste di Lecco Channel del canale blu-celeste specializzato appunto a seguire la squadra attualmente nel campionato di Serie B. Cosa sta succedendo a questo Lecco che era partito con belle speranze e anche con risultati considerevoli nella prima parte del campionato? Guarda, l'inizio sicuramente Lecco si è trovata a sorpresa in Serie B non era un traguardo programmato negli anni ricordo comunque che l'anno scorso, l'anno scorso campionato la squadra era stata allestita per ottenere dei risultati medi una salvezza tranquilla, quanto più possibile tranquilla e di conseguenza mantenere la categoria e la Serie C poi queste cose nel calcio è il bello che succedono i giochettori vanno particolarmente d'accordo si creano alchimie particolari con lo staff tecnico, con la città c'è sicuramente un po' di fortuna e ci siamo ritrovati in un campionato che non frequentavamo da 50 anni sicuramente non c'era preparazione sotto tanti punti di vista anche dal punto di vista dello stadio documentazione arrivata in ritardo anche chiaramente per colpe che stanno a livello istituzionale è stata una rincorsa continua diciamo che i problemi iniziali sono stati superati con un ottimo recupero nella fase autunnale è arrivato dicembre ecco ricordo che il 26 dicembre 2023 era a salvo dopo aver battuto il Suttirol nello scontro diretto di Santo Stefano a Riga Monticeppi e poi oggi è facile da dire diciamo che già due mesi fa si intuiva il mercato ha creato molti problemi a livello di gestione dello spogliatoio quando tu cambi 29 facce nello spogliatoio è difficile ritrovare quelle alchimie insomma è stata sicuramente una campagna di acquisti che ha oggi mancano ancora 8 partite però insomma la classifica parla chiaro ha tolto decisamente molto di più di quello che ha dato poi ripeto ci sono due settimane di pausa la sosta è providenziale questa pausa? sicuramente sì perché per quanto percentualmente basse possano essere le nostre possibilità di farcela ancora di agganciare i play out logisticamente logicamente non tanto di guardare alla salvezza diretta queste due settimane possono dare qualcosa a livello di conoscenza alla squadra che non ha mai avuto la possibilità di lavorare due settimane di fila senza avere l'assillo della partita domenicale o degli infrasettimanali che ci sono stati è providenziale è decisamente l'ultima spiaggia qual è l'apporto che può dare il pubblico i tifosi in generale a questo tentativo di ripresa e di rilancio? beh è vitale perché quando io prima parlavo di alchimia chiaramente l'anno scorso la tifoseria è partita da avere 800 persone in occasione di Lecco San Giuliano era stata la prima partita di Foschi è arrivata ad avere lo stadio pieno col Foggia ma c'è stato un crescendo non è stato un botto finale è stato un crescendo è che di questi tempi l'anno scorso si giocava col Pordenone c'erano già quasi 5.000 persone quindi è stato un riaffezionarsi alla squadra la tifoseria quest'anno è stata incomiabile nelle gare in trasferta si è fatta sempre sentire ha portato 1.000 persone a Genova 400 persone a Bari 170 persone ad Ascoli che è sicuramente la trasferta più scomoda di tutta l'annata si è presa tanti complimenti anche dagli altri sono stati applauditi ad Ascoli domenica e in casa è sempre stata super presente tanti tutti esauriti anche dal punto di vista delle casse societarie questa è una cosa positiva perché va sottolineato a mio parere è un peccato che questo patrimonio si rischi seriamente di disperderlo non so se totalmente o parzialmente ma sicuramente sta maturando un brutto brutto colpo per la piazza c'è speranza di un ricupero di una ripresa o il panorama è triste il futuro è preoccupante allora sicuramente la classifica parla molto chiaro oggi le possibilità di agganciare i play-out sono minimali siamo ultimi non vinciamo una partita da Santo Stefano abbiamo fatto un punto da allora e siamo ormai in primavera voglio dire il 19 quindi il 21 22 i giorni della primavera sono veramente molto molto vicini e di conseguenza serve un'impresa sportiva nelle ultime otto partite che ci rimangono per farcela poi io sono anche uno di quelli che ha visto sentivo poco fa l'impresa con Bertolini i suoi ragazzi nel 2017 sono stati sei mesi non è stato neanche un anno sono stati sei mesi di grande recupero e quindi dopo aver vissuto quell'impresa tutto è possibile su un campo da calcio perché la situazione allora era molto più compromessa però per fortuna non ci sono solo i valori tecnici è chiaro che ripeto siamo all'ultima spiaggia questa pausa deve dare qualcosa e poi evidentemente col cittadella a Pasquetta deve succedere qualcosa sul campo per riuscire a rianimare un po' tutto il sistema cosa può dire quindi in conclusione un cronista buceleste sul campo in prima linea nelle dirette delle partite nei commenti del post partita ai tifosi per dare un contributo notevole alla ripresa della squadra ai tifosi dico di fare quello che stanno facendo ovvero di far vedere che loro ci credono ancora poi è chiaro il tifoso non gioca però il tifoso può trasmettere qualcosa alla squadra è vero che fino a questo momento questo nuovo gruppo io lo chiamo così non ha reagito agli stimoli ma anche perché banalmente i risultati non sono mai arrivati poi i gruppi nuovi hanno bisogno di risultati abbastanza rapidi per riuscire a dare delle risposte sul campo però alla gente e lo sta comunque facendo penso solo veramente chiedere di continuare a fare quello che sto facendo perché penso che il pubblico di Lecco sia inattaccabile quest'anno perché ha avuto anche una pazienza che quando io ho iniziato a frequentare Enrica Montice e poi ho iniziato a fare questo lavoro non c'era non c'era oggi è un pubblico che porta più pazienza questo indubbio è un pubblico è un pubblico e un pubblico è un pubblico